Ben ritrovati su Micapelli.com, portale per la cura e il benessere dei vostri capelli. Oggi parliamo di pelibolosi, parliamo di pilocchi. Io offro una linea completamente vegetale e molto efficace, composta da tre prodotti. Due preventivi, shampoo, delicato, anche uso giornaliero, e per rafforzare la prevenzione, spuma, i capelli un po' più lunghi. In caso di problema avvenuto, olio dissolutivo, per togliere completamente le delbidi. Questa linea la può usare chiunque, è dedicata soprattutto ai bambini. Vi ringrazio per la vostra attenzione, alla prossima!